Nonostante ciò però, ecco è un altro elemento che volevo portare all'attenzione, il 77% dei casi in Italia non conosce ancora la migliazione. È un dato rilevato dall'osservatorio sui sistemi ADF e per questo motivo il Presidente di questo osservatorio ha invitato il legislatore a, vuol dire, riempire di contenuto quello che è il ruolo del legislatore come collegamento tra l'organismo ma anche come collegamento con i giudici e con i tribunali nel momento in cui la mediazione dovesse fallire. Prima di lasciare la parola al dottor Moripoli, volevo raccontarvi. Sto che affetterà il tema del rapporto tra il suo vice mediatore collegamento tra i procedimenti di mediazione e inizio e soltanto la parlo di una mediazione che recentemente si è conclusa e si è svolta negli Stati Uniti, valore della mediazione un miliardo di dollari. Tutto è cominciato all'interno della Corte americana dove le parti erano di quei soggetti molto importanti giuridici nel campo della finanza sconfiorata. Il giudice ha riconosciuto che la materia non potesse essere opportunamente risolta, troverse all'interno del giudizio e demanda il giudizio ad un mediatore. Allora, inizio nella mediazione. Vi preannuncio che questa mediazione dura un tutto dieci ore. Allora, dopo le prime due ore, senza incontri di poterabuzione negli Stati Uniti, non ci sono forse tecniche, perché dopo le prime due ore, il mediatore si è reso conto che le parti erano ancora abbastanza lottari da raggiungere l'accordo e che ha fatto l'imperio, proprio a esplorare, i miei colleghi americani hanno lavorato a cazzo interno, l'imperio ha detto che avrebbe formulato la proposta. Cosa è successo? Noi diamo termine, raggiungiamo la seconda, l'imperio ha detto che non si muove nessuno. Allora, io porto la proposta, che ha intanto i miei consulenti e esperti finanziari, per cui gli organismi di direzione forniscono al collega mediatori e mediatori tutto un team, insomma, viene alla parte dei doni dove magistrati hanno il team dei funzionari e quindi grazie a questi team, lui formula un po' altre tre ore la proposta, siamo arrivati a cinque ore, a quel punto mi hanno raccontato i miei colleghi con tono abbastanza minaccioso, ha detto ai dati, ho fatto vero, e poi è un tono abbastanza minaccioso, ha detto alle parti, esaminata, che le sonate dei vostri amministratori delegati e esperti finanziari, perché da qui non si muove nessuno, quindi dovete accettarlo e risultarla, però non vi consiglio di risultarla, perché poi dall'altra parte c'è un giudice che gli ha demandato e quindi avrete l'inizio. Dopo altre cinque ore, tutti li hanno telefonato gli amministratori delegati e i presidenti di esperti finanziari, nessuno si è aiutato, non so, però non si è più liberi, però qualcosa, però dopo dieci ore, fatto vero, dopo cinci ore di attenzione, si è raggiunto l'accordo da un miliardo a un 390 mila euro. Per me sono di 10 euro e miliardi, non è la stessa cosa, comunque, vi ringrazio e do la parola, non per un intervento, ma per una vera relazione al forno di cori, ma si d'accordo con gli altri relatori, come dicevo, non cerco di un po' di altro. Grazie.